Ci sono anche delle bandierine di diversi tipi, quali sono? Sì, le bandierine crociate nello Stemma del Comune proprio per associarsi a questa iniziativa quella del Parmacalcio, del Sindaco, per incitare i ragazzi di bambini ad andare allo stadio e anche la raccolta degli ocali perché magari i bambini di altri continenti possano rivedere o vedere meglio rispetto a quello che stanno facendo. Quindi abbiamo qualun'altra iniziativa nello Stadio dei Tardini e devo dire che sicuramente ha suscitato molto interesse perché la sommatoria e la sinergia esiste, lo vogliamo fare. Grazie.